Ciao a tutti e benvenuti nell'Orto di Giulia. Non mi sembra vero di poter dire ancora queste parole perché proprio oggi questi terreni dove appunto sorge la mia azienda agricola, che sono di nostra proprietà da cinque generazioni, dovevano essere espropriati dal Comune di Roma e dal Consorzio Colle delle Gensole. Ci troviamo a Roma, nel nono municipio, e qui dovrebbe sorgere un complesso residenziale chiamato Colle delle Gensole. Ma questa mattina, quando sono arrivati i rappresentanti del Comune e del Consorzio, hanno trovato numerosi cittadini che ci sono venuti a dare il loro appoggio, che ringrazio infinitamente perché oggi è addirittura zona rossa, quindi non era facile arrivare per aiutarci. Numerose associazioni come per esempio Legambiente per l'Arogro Romano Meridionale, alcuni rappresentanti dell'amministrazione pubblica. Ci sono stati consiglieri municipali Lepidini, Ugolini, Mancuso, la presidente del settimo municipio Lozzi. Devo ringraziare anche la consigliera comunale Grancio e la consigliera regionale De Vito. Quindi non senza difficoltà, siamo riusciti, anche grazie all'appoggio del nostro avvocato che ha fatto emergere alcuni vizi procedurali, siamo riusciti a non fargli acquisire queste terre, non fargli redigere il verbale di acquisizione e quindi si sono dovuti allontanare dicendo non finisce qui, torneremo. Lo sappiamo benissimo che non finisce qui, noi non ci fermeremo e spero che anche tutto quanto l'interesse che si è sollevato non si fermerà qui. Teniamo alta l'attenzione sia su questo specifico posto, ma spero che questo serva anche per evitare che queste situazioni si verificano in tutto quanto l'agro romano. Io ringrazio in particolar modo chi è venuto stamattina, ma anche tutti quelli che sono stati presenti sui social, che hanno fatto girare la notizia, che ci hanno dato il loro appoggio telematico, quelli che non sono potuti venire per problemi personali, per la zona rossa, eccetera. Grazie a tutti, grazie dell'appoggio, grazie del sostegno e spero che riusciremo a vincere questa battaglia e a modificare proprio il pensiero, il pensiero politico, il pensiero diciamo di come deve essere impostata questa nostra società.